Ciao ragazzi sono Sonic.exe e benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo di nuovo su Craftsman per creare un nuovo mondo e fare molte cose belle. In realtà non so cosa fare ma mi inventerò qualcosa in questi punti. Allora intanto prendo una bella spada in diamante e un'armatura in diamante. Accidenti alla pubblicità! Ora metto modetta aereo così non c'è la pubblicità che mi rompe perché ho messo una spada in diamante. Allora questo perfetto e ce lo indossiamo. Ora ammazzerò qualche villager. Ora metterò una piccola stanza. Ecco ho fatto una stanza e ci metto un villico dentro, un villager. Poi... Poi... questo che cos'è? Uovo e cavallo... non lo so... non lo so. Ah cavallo scherzo. Aspetta lo farei uno scherzo invece è un cavallo. Mettiamo un leggi. Ok non si trova nulla. Io so che non sta succedendo nulla, prendo la PMT, prendo un attimino e faccio esplodere Io so che non sta succedendo nulla, prendo un attimino e faccio esplodere Io so che non sta succedendo nulla, prendo un attimino e faccio esplodere Io so che non sta succedendo nulla, prendo un attimino e faccio esplodere Io so che non sta succedendo nulla, prendo un attimino e faccio esplodere Io so che non sta succedendo nulla, prendo un attimino e faccio esplodere Io so che non sta succedendo nulla Io so che non sta succedendo nulla Io so che non ce l'ho fatta la potenza Io so che non sta succedendo nulla Io so che non sta succedendo nulla, prendo un attimino e faccio esplodere